Buonasera, la Scuola Media Baldassarre durante l'anno scolastico 2012-2013 ha avviato dei laboratori musicali riguardanti lo studio del canto, del pianoforte e della chitarra. Per questi laboratori hanno collaborato i docenti Baldassarre e Emilia, Francesca Cavallo per quanto riguarda il pianoforte, il maestro Marco Corcella per quanto riguarda le chitarre e me, Marilena Gaudio, per quanto riguarda il canto. Sono stati dei laboratori che ci hanno dato tantissime soddisfazioni e hanno dato modo di scoprire veramente dei talenti straordinari che erano nascosti nell'animo, nella mente, nelle braccia, nelle mani dei nostri ragazzi. Da questo sono uscite tutte le peculiarità che offrono milioni di possibilità ai nostri ragazzi di scelta anche per il futuro, per quello che riguarda il loro itinerario scolastico successivo. Questi corsi sono stati del tutto gratuiti. Noi abbiamo avuto la collaborazione per quanto riguarda le esecuzioni all'esterno della nostra scuola del Comune di Trani che ci ha fornito la sede per la rappresentazione del saggio dei nostri ragazzi. La scelta dei ragazzi è stata effettuata con delle audizioni che ci facessero pensare e apprezzare le doti in nuce di questi ragazzi. Dopodiché abbiamo avviato il laboratorio e da qui veramente sono emersi nel loro splendore tutte le loro possibilità vocali, pianistiche e chitarristiche. L'anno prossimo il nostro progetto continuerà. È stato un progetto a titolo completamente gratuito che non ha aggravato sulle famiglie proprio rispettando il periodo di crisi economica e potremmo dire forse anche politica che stiamo attraversando. Per cui noi della Scuola Media Baldassarre non abbiamo assolutamente voluto che le famiglie potessero avere un onere economico. Per cui noi siamo arrivati a dei risultati ottimi senza avere lo scrupolo di aver fatto spendere danaro alle famiglie. I risultati sono stati grandiosi oltre forse le nostre aspettative. Cercheremo di portarli avanti e sicuramente li porteremo avanti l'anno prossimo e l'altro anno perché sono stati scelti dei ragazzi di prima e di seconda media per cui noi continueremo il loro corso di studi fino alla terza media con grande specificità. Grazie, buonasera.